L'immagine che inchioda la FIGC, l'AIA e l'arbitro, il VAR di Juventus Verona, ve la mostro io, questa foto l'ho scattata io allo stadio ed è immagine inedita che dimostra che Kenny non è in fuorigioco e che dimostra che c'è un complotto contro la Juventus. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Allora vi mostrerò questa immagine che inchioda tutti e dimostra che veramente signori miei c'è una guerra contro la Juventus e per non la fare vincere. Iscrivetevi al canale, signori miei perché è importante, sostenete me, sostenete il canale, iscrizione gratis e sono sempre qui a difendere la Juventus e a mostrarvi immagini che smascherano questa farsa contro la Juventus. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live e lei si d'incendente, madame e messia e signore e signori, mei signori, quelle vere e quelle gobi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Io ho l'immagine, praticamente la foto che ho fatta allo stadio, che inchioda tutti, che dimostra che Kenny non è in fuorigioco perché c'è un altro difensore sulla parte destra, sulla parte destra, che tiene in gioco Moessi Kenny. Io ve la mostro subito, ecco qui. Intanto ve la descrivo per bene questa immagine perché vi voglio dimostrare innanzitutto per quale motivo Kenny non è in fuorigioco. Allora, in alto, a sinistra, vedete la freccetta che c'è quando parte la palla. Lì c'è il numero 1. Lì parte la palla. Nel momento in cui parte la palla, la palla arriva dove c'è la freccia che c'è Moessi Kenny, che c'è il numero 2. Se guardate a destra, in basso a destra, che c'è una freccetta con il numero 3, è il difensore che tiene in gioco Moessi Kenny. Le due linee sono state tirate con le giuste misurazioni. Non parliamo di due linee tirate praticamente a caso. Ripeto, con le giuste misurazioni e la giusta scala. Perché come vedete la linea rossa tratteggiata è la linea del difensore. La linea bianca è quella di Moessi Kenny. Kenny è tenuto in gioco. Bene, io invito qualunque giornalista, invito qualunque tv che se vuole il video di questa immagine, io sono a disposizione per mostrare al mondo del calcio italiano che c'è una falsa contro la Juventus. Io sono sempre qui, sono presente. Non voglio tenervi oggi tanto, avevo solo voglia di mostrarvi questa immagine e di mostrarvi in primis che sono sempre veramente presente a difendere la Juve, a cercare, a spulciare immagini per smascherarle veramente tutto. Ora credetemi signori miei, condividete questo video perché è molto importante. Questo video deve essere condiviso. Lo devono vedere tutti e per di più dico che io ho il video inedito che riprende questa azione. Qualunque televisione vuole questo video io mi metto appena a disposizione a mostrarvelo e a dimostrare che c'è una guerra e una farsa contro la nostra Juventus. Vi rimostro ancora un'altra volta questa immagine perché questa immagine parla chiara, vedete le freccette con i numeretti, sono i tre giocatori. Uno dà la palla, uno riceve la palla e quella in basso a destra del Verona che tiene in gioco Moessi Kenny. Quindi linea rossa tratteggiata giocatore del Verona, linea bianca e Moessi Kenny che è tenuto in gioco. Ecco qua signori miei, come dire, il barbatrucco è svelato. Cosa dire? C'è poco da dire, c'è soltanto da indignarsi assolutamente di quello che i media vogliono far vedere. Ma la verità è un'altra per chi poi, come me, è allo stadio, ha le immagini inediti per smascherare tutto questo mondo del calcio che ormai è veramente marcio. Condividete, mi raccomando, e smascheriamo tutti fino alla fine. Forza Juventus, Yemen e Vaio. Ossa Benedica a tutti i picciotti. Ciao!